Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video in live sul multiplayer di Call of Duty Black Ops 3 Una nuova e adrenalinica partita sullo sparatutto in prima persona di casa Treyarch Iniziate subito a supportare il video con un bel mi piace ed iscrivendovi al mio canale E quindi andiamo! Ieri sono uscite le armi nuove quindi ragazzi oggi assolutamente le dobbiamo trovare Adesso andiamo subito al mercato nero perché voglio trovare la nuova mitraglietta HG40 e il nuovo fucile da cecchino RSA Anche se se lo vado a trovare non lo utilizzerò praticamente mai perché lo sapete il fucile da cecchino è proprio contro di me Allora ho 200 criptochiavi o meglio 71 criptochiavi e 200 Call of Duty Point Quindi possiamo aprire qualche pacchetto e iniziamo subito con qualche rifornimento raro Almeno due e vediamo un po' Dai 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 dai! Tecnologia! Colpa alla testa! Avvoltoio! Niente de che! Niente de che! Tema corpo! Profet! Ne apriamo subito un altro Guardate un po' con la fortuna e mi ritrovo io Compagno caduto emblema Cannibale Piramide 2 Mirino Varix 2 Tema testa nomad Leggenda Niente de che! Allora non possiamo aprire più niente almeno con questi Allora utilizziamo i 200 Call of Duty Point da inizio gioco che ovviamente ce li ho ancora da sbloccare Fenice Scorpione E muscoli Niente da fare Niente da fare ragazzi Niente da fare Ci restano 29 Ne apriamo due normali Vediamo un po' se siamo più fortunati Qua infiltrazione Vuoto Viola Bussola Tutta roba comune Niente de che! Velo Svg100 Ultimo 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 Incrociate Punte Verde Contrasto Niente ragazzi La mia grandissima fortuna nel mercato nero continua veramente a dismisura Quindi praticamente niente da fare Né HG40 Né S O meglio RSA Infiltration Come fucile da cecchino Va bene ragazzi Fatemi sapere invece voi nei commenti E qui sotto se avete già trovato qualcosa delle armi nuove Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio video E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio canale